Onoranze funebri a Uffiero è una società fermata nel campo dei servizi funerari che ha fatto dell'etica professionale e dell'assistenza al cliente i propri punti di forza. Visita il sito web per scoprire tutti i servizi offerti. Recati presso uno degli uffici per un preventivo senza impegno. Un'imponente operazione di pulizia delle strade del centro cittadino è stata condotta nel corso della notte dagli operatori della Metelia Servizi su input del presidente Giovanni Muoio. Con l'ausilio di una idropulitrice è stato eseguito un intervento di sanificazione dell'intero centro storico. Attenzione particolare è stata riservata ai pilieri dei portici che, a causa delle emissioni canine, presentano macchie poco consone al decoro urbano e molto spesso fonte di cattivi odori. Nei prossimi giorni, anche in vista della festa patronale, ormai imminente, sono previsti altri interventi di pulizia delle strade cittadine. Grazie. Grazie.